Operazione antidroga dei carabinieri a Comiso. Ieri sera, al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 17enne del luogo, con piccoli precedenti penali, perché sorpreso a cedere all'interno di una sala giochi due involucri di marijuana del peso di 3 grammi a due 18enni comisani. I militari, avendo assistito all'attività di spaccio, hanno dapprima fermato i due acquirenti per poi eseguire un'ispezione personale sullo spacciatore. All'interno di una tasca del suo giubbotto è stata rinvenuta la somma di 75 euro, nonché altri 4 involucri in carta stagnola di stupefacente. La perquisizione è stata quindi estesa anche all'interno del bauletto dello scooter del minore, dove sono stati trovati altri 11 involucri della medesima sostanza, per un totale complessivo di 21 grammi di marijuana. Il 17enne è stato a quel punto condotto presso la caserma di Via Sciascia, da dove al termine delle formalità di rito è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza di Catania, a disposizione dell'autorità giudiziaria etnea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata è stata già inviata presso il laboratorio di sanità pubblica dell'ASP di Ragusa per stabilirne l'effettiva composizione e il numero di dosi ricavabili.